Siamo a Piazza Plebiscito, uno dei luoghi più simbolici della nostra città, a Napoli e in questo luogo ci sarà la finale di X Factor. La prima volta che la finale del talent sarà all'aperto e Napoli aspetta con grande gioia questa occasione, stringerà tutta la troupe di X Factor per questa occasione bellissima per noi. Napoli è una città musicale, una città che ha un grande amore per la musica, che ha grande passione e per questo motivo è stata una scelta molto bella che ci rende assolutamente felici. Perciò vi aspettiamo a dicembre a Napoli, aspettiamo Giorgio, a tutta la giuria, tutti i talenti e i cantanti di X Factor. Sarà una grande festa della musica perché Napoli è città della musica e noi la festeggeremo insieme.